La Verbansky ha fatto esplodere Decker, è stato un brutto spettacolo. La CIA vuole incastrarmi per una cosa orribile, anche questo è brutto, ma c'è qualcos'altro sotto questa storia. Qualcosa di personale. Chi può avercela con noi? Non lo so, ma riorganizzeremo la squadra e lo scopriremo. Dove sono gli altri? Li aspettiamo qui già da un'ora, li avranno catturati. Sei stato bravo con l'evasione. Sono fiero di te, imbecille. Ti complimenti? E poi mi insulti? Ci siamo. Chuck, ehi! State indietro! Scusate il ritardo. Lo chalet è un nascondiglio provvisorio, vero? Questa cosa si sconfierà, non abbandonerò mia sorella per sempre. Certo che no, perché dici così? Perché siamo ricercati dalla CIA e penso alla storia della mia famiglia. Chuck, noi non spariremo come i tuoi genitori, ci nascondiamo solo per un po', ok? Andrà tutto bene. Capo, abbiamo localizzato i Bartoschi. Eccellente. È ora di raggiungerli. Ho usato l'account open table di Chuck per punti. Eccomi qui, un tavolo per due. Signori Bartoschi, da questa parte. È come se la mia famiglia avesse il destino segnato. La maledizione dei Bartoschi. Che cosa? Senti, non esiste nessuna maledizione dei Bartoschi. Tu non farai come tuo padre, ok? Sai perché? Perché tu hai me. Non sei solo. Prenotazione, le mia. Che succede? Niente, non capisco. È un messaggio da open table che mi chiede di commentare la cena di stasera. Ellie avrà prenotato usando il tuo account. Giusto, sa che così accumulo punti. Perciò gli agenti credono che Ellie e Devon... Siamo noi. Un gruppo interno alla CIA sta cospirando per incastrare il nostro Chuck. Chi c'è dietro? Non lo so. Ci serve uno dei cospiratori. Nel frattempo sto facendo il possibile per aiutare Chuck e Sarah da qui. Gli stanno già dando la caccia al momento. Anche alla loro famiglia. Ho solo tre ore per consegnare Omen. O uccideranno Ellie e Fenomeno. Capo, è meglio che venga a vedere. E là, sono io. Chuck Bartoschi. Quello della telefonata. Giusto in tempo. Chuck è venuto a salvarci. È nei guai, piccola. Dobbiamo aiutarlo. Non possiamo andare laggiù. Ci serve un vantaggio tattico. Ok. Allora, tu hai la scelta? Omen? Oppure dolore? Ci siamo. Ma che succede? Non lo so. Dimmi dove hai nascosto Omen. Il tuo amico potrà dire addio al suo bel faccio. La faccia no. Hai pestato i piedi a un sacco di gente potente, Chuck. Ecco. Omen da questo istante è in giro ad infettare il muro. Non posso crederci. Un'altra volta. Libero. Walker. Casey. Avete vinto. Robin Cunnings. Non crederai di cavartela così. Sara, è il virus Omen. Ha colpito tutto il nostro sistema. Non solo il nostro sistema, anche Internet. È dappertutto. Non solo il nostro sistema, anche 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 il nostro sistema,